Ma è normale quando si fa una diga per il smontamento qua? Ma che lui dice? Informatemi da una volta, i giornali! No, no, è tutta colpa di quei delinquenti, se la natura si ribella. Ha ragione! Questa, questa era una valle, un cattino da riepire con dell'acqua. Hai ragione! Il mio vecchio ha ragione! Qua l'acqua sta mangiando la montagna! Ma sta mangiando di cosa? Eh, ciao! Scusate, c'è qualcuno che mi sa indicare la strada più sicura per arrivare alla frana? Se vuole l'accompagno io. Ah, va bene. Grazie. E adesso? Vieni. Passiamo di qua. Attenta, eh? È pericoloso. Vieni. Tu sai perché questa montagna si chiama Toc, vero? Perché qui, dalle nostre parti, Toc vuol dire qualcosa di marcio, di molto friabile. Quanta montagna sarà franata? Che dicono la diga? Parlano di un milione di metri cubi. Tutta questa parte della montagna ormai è finita nel lago. Ma il vero problema non è questo. È più su. Andiamo. Ve l'hanno fatta vedere i contadini del Pian del Toc. Hanno paura. E alla Sade cosa... L'hanno vista anche loro. Ma i geologi dicono che non c'è da preoccuparsi. Che vergogna. Ma quanto sarà lunga? Prosegue nel bosco per più di due chilometri. Da questa parte ti faccio vedere.